Avete messo a punto una family room, quindi che miglioramenti dobbiamo aspettarci? Prego, accomodatevi con me e vi faccio vedere. Questa è la nostra family room, un'area totalmente riservata alle famiglie, alle mamme con i figli, al papà con i figli ovviamente, per chi vuole trascorrere un momento di relax in compagnia del proprio figlio. Abbiamo messo a disposizione ovviamente YouTube Kids per i più piccoli, anche la scrivania, perché avete bisogno di seguire le lezioni online, perché in questo momento ovviamente noi mamme, oltre ad essere mamme, dobbiamo fare anche sostituire le insegnanti e quindi seguire i nostri figli in un percorso educativo importante come quello della scuola, per cui magari in un momento di relax come quello che si fa durante una seduta dal parrucchiere, ovviamente si può comunque stare attenti al proprio ragazzo, al proprio figlio e seguirlo. Con la wifi è completamente gratuita e quindi l'area completamente riservata, sanificata ed igienizzata per le famiglie, per i ragazzi e anche per i più piccini. Abbiamo in questo caso, vi faccio vedere, anche l'ingresso indipendente, proprio per evitare contatti con altre persone ovviamente. Quindi abbiamo riservato un ingresso speciale per la family room, che è il nostro secondo ingresso per il nostro salone. Abbiamo anche predisposto per tutte le clienti all'ingresso, un cofanetto Balmain completamente sigillato, dove all'interno ogni cliente potrà trovare tutto il kit rigorosamente monouso ed igienizzato ovviamente, e l'occorrente per i servizi poi che potrà effettuare in salone, quindi dalle mantelline, taglio, colore, asciugamani. Quindi predisporremo anche delle mascherine per coloro le quali ovviamente non dovessero averle con sé e poi un'altra sorpresa, perché sarà veramente un'altra onnicità che vi dirà la responsabile. Abbiamo predisposto anche le spazzole, quindi la cliente se vorrà potrà acquistare la sua spazzola e riportarla a casa con sé, in modo che ogni volta che entrerà nel nostro salone potrà portare con sé anche proprio il suo materiale individuale. Ovviamente verrà sempre, una volta rientrato il materiale, sanificato da noi ed igienizzato, a prescindere. Tutto il nostro materiale viene igienizzato, sanificato, quindi è come se fosse ogni volta nuovo, tant'è che nei nostri carrelli troverete sempre le spazzole sigillate singolarmente, per un uso individuale, singolare e ogni volta riposte in un altro spazio per essere poi igienizzate. Così anche come pettini, forbici, tant'è che abbiamo anche, vi faccio vedere, germicida per la nostra attrezzatura, che ovviamente viene riposta sempre dopo essere stata sanificata, nonché sorprendentemente un purificatore d'aria, proprio per essere davvero al passo con i tempi. In questo momento di attenzione particolare all'igiene, alla sanificazione, noi ci siamo davvero spesi tanto per questo. A questo punto direi che è tutto da casa Balmen, quindi vi attendiamo, attendiamo tutte le nostre clienti e tutti ovviamente i futuri nuovi clienti che già in questi ultimi giorni si sono risvegliati, come ho detto prima, e volevo lasciare e concludere con una frase che faccio dire da da mio padre. La bellezza in totale sicurezza torna a essere protagonista. L'Arstag si riparte. Si riparte. In sicurezza. Balmen is Balmen. Grazie. Grazie.